Lo aspettavate tanto tempo e finalmente è arrivato ragazzi, proprio così, il mio merchandising ufficiale che è adesso in vendita su Tube Shop Italia, vi lascerò ragazzi il link sotto questo video e su ogni mio social, soprattutto Instagram e YouTube. E come potete vedere ci sono ben sei prodotti che sono tutti in edizione limitata, questo significa che i prodotti sono acquistabili solamente fino al 13 di luglio, quindi bisogna affrettarsi con gli acquisti e ci sono tre diversi tipi di colori e tutte le taglie. Le taglie vanno dalla XS alla doppia XL e i colori ragazzi sono appunto disponibili in grigio, in bianco e in nero. E un consiglio che vi do è quello di consultare il box delle misure per essere sicuri che comunque prima che acquistiate e ordinate un capo sia diciamo perfetto per le vostre misure. Quindi sì, questo ragazzi è tutto, questo è il mio merchandising che sarà disponibile fino al 13 di luglio, quindi mi raccomando ragazzi affrettatevi perché questi prodotti, queste magliette sono a dir poco fantastiche. Un'altra cosa che potete tranquillamente fare è quella di appunto fare una stories su Instagram o comunque anche una foto e postarla sul vostro profilo e di taggarmi perché io ragazzi poi a fine mese condividerò ogni singola stories e ogni singola foto che mi arriverà tramite il tag di voi che indossate appunto il capo d'abbigliamento o semplicemente del prodotto che appunto vi è arrivato in casa. Quindi sì ragazzi divertitevi con gli acquisti, fatemi sapere cosa ne pensate di questi prodotti che sono stupendi e niente ragazzi. Bella ragazzoli, benvenuti su questo nuovissimo video. Se volete supportarmi su Fortnite è possibile farlo direttamente dall'item shop di Fortnite. Basterà andare appunto nell'item shop, cliccare su supporta creatore in basso a destra e andare ad inserire il mio nome ovvero Croatomist. Accettare e il gioco sarà fatto. Quindi ragazzi ringrazio tutti coloro che dicevano di supportarmi e buona visione. Bucco di culo, comunque là c'è il medico, bene, io porto gli scolini, quindi tu c'hai le vodka e shield, chini. Allora da mini mini, più del medico, è vero? Sembra giusto. No, io faccio così, me ne porto otto di questi. Perfetto, io ho perfetto a 6.000. Ciao. Ciao. No, 10 dalla strega. No, se vuoi andare lo fai... Dai, bambino, scala, dai! E scala di me. Non le faccio altre. Dovevo andare, pingami. Non voglio andare da volta. Ah, c'è la pentinella, c'è la pentinella, va bene. Eh, mi sono fermata qua. Io lo fai, io lo fai, io lo fai. Poi se lo stai a lottare. Ho due padre, voi uno, tieni. Ne avevo due, ma grazie. No, hai tre adesso. Hai tre? Vieni qua. Quanti pad hai? Ma te li do, stai zitto, madonna, vieni qua. Questa la vuoi rilasciare per il bus. Questa cosa? Su, tutti questi, vieni qua. Ok. Io non sono insieme. Vieni qua, non ho fatto bene. Basta, basta. Vabbè, abbezzare. Vai, Bobby. Sopra. Eh, ma è un nemico sopra, per questo voglio togliermela qua. Pichiamo trovi mazzi. Oh, c'è una bolla. Beh, se killiamo, ci possiamo spregare. Odinito. Ok, vieni qua. Ok, vieni qua. Ok, vieni qua. Ok, vieni qua. Hai razzi? Hai razzi? No, non li ho. Vabbè, sopra, sopra. Poi ci sono delle smoke bombe, le voglio prendere. Eh, no, già le ho sei. Poi, poi, guarda. C'è uno morto qua, c'ho il loot di questo. C'è uno in solo qua, da me. Cambia. Dobbiamo faddare. Faddà, 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 faddà. Poi a fattare. Fa? Faddà, sono per te. Mi serve con i colpi piccoli da fare 24 solo. Vanno, 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 vanno. avanza mi servono una può portare si si ne ho due si fa villare non c'è la zera guarda si 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 O like? E' like, vabbè Io smoffo, smoffo Io ho fatto malissimo Ho 4 hp Questo non è Viene a me? No, mi devo tirare Razzino dagli studini Fai appena poi imbuttano due cose Sto arrivando Salgo io da te Ma cosa non fanno? Tira il... Andiamo Ok Salgo, salgo Io devo curare Adesso è sotto Guarda che se uscidiamo ti chiedo Mi fa Aspetta Mi fa Mi dentro Hanno messo la storm Ok vieni, vieni Roppi, rompi Occhio, occhio che ci potrebbe essere gente Guarda me, ho trovato Dava Avanza, avanza Easy Continua a buildare che ho tanti mazzi Vai 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 Over build 015 Tieni 200 È di te Dove ne hai buttato? Dove ne hai buttato? Il mattone è di là Hai preso Dai, lo prendo Ok, caduta uno Sopra di te Ok, caduta uno Sopra di te Up Vai no, no, no And psychologists ScOOD Coperti Coperti Giacati i Falò Giacati i Falò C'è lei LM Puoi andare a sostante tipo di smoke Non so perché No non ce la fai Vai ti refanto Gi hai? usali martin usali qua tranquillo ma quando cazzo let's fucking go ma ti kill hai? ti piacciono i miei flick baby? ma ti kill hai? ah ti stai vedendo? sei ok io quattro cavo tre scusami principe e dai questo flick in a cast non ha gradito mi sa che sta ancora facendo teddy?